Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You, oggi vado a recensire questo prodotto che secondo me potrebbe essere utile per molti di voi l'ho acquistato su Amazon ad un prezzo davvero imbattibile, vi lascio il link in descrizione che cos'è? è un cavetto di ricarica che presenta diverse uscite perché l'ho acquistato? semplicemente perché avendo questo powerbank mini della Anker tra l'altro ho effettuato la video recensione, vi lascio il link in descrizione per andarvela a vedere come anche il link per acquistarlo sempre su Amazon, mi servirà appunto sia da metterlo all'interno di questa custodia e quindi ricaricare qualsiasi dispositivo ma anche perché in viaggio, in macchina, durante appunto i viaggi lunghi ho pensato di acquistare anche questo prodotto, è un caricatore che si attacca all'accendisigari e permette di appunto attaccare fino a due dispositivi e quindi attaccando il cavetto direttamente a questo prodotto posso caricare qualsiasi dispositivo farò anche una video recensione di questo prodotto acquistato su Amazon anche qui ad un prezzo davvero contenuto ma adesso andiamo a vederlo nello specifico 30 cm di lunghezza questa è appunto la porta la porta, la porta, l'uscita USB che si va ad attaccare ad esempio al power bank magari facciamo una prova al volo quindi andate ad attaccarlo mentre poi la cosa molto utile è che ci sono tutti questi cavetti tra l'altro di diverso colore che presentano delle uscite differenti potete caricare iPhone dispositivi quindi che presentano questa entrata ovviamente potete attaccare anche dispositivi con ingresso micro USB non so se metta fuoco comunque è utile e poi abbiamo invece USB tipo C allora devo dire che i materiali sono tipo una stoffa, un nylon che solitamente anche per mia esperienza personale rispetto alla gomma tende a deteriorarsi di meno i colori anche sono convincenti quindi ovviamente non è pensato per il trasferimento di dati così viene detto sulla pagina ma solo per il caricamento la cosa bella è che si possono caricare così viene detto fino a 4 dispositivi alla volta quindi davvero interessante questa cosa ottimo prodotto secondo me vi lascio il link in descrizione per darci un'occhiata se siete interessati se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review non esitate a pormela